Nella puntata di martedì 1 ottobre 2024 di Temptation Island, continuano i video per Anna, costretta ad assistere al serratissimo corteggiamento del fidanzato Alfred nei confronti della single Sofia, e viceversa. Il blocco inizia con Filippo Bisciglia che fa vedere al pubblico il video che alfalò Anna, troppo provata, durante la scorsa puntata, non ha voluto vedere. Nel video il ragazzo appare molto, ma molto vicino alla single. Poi vediamo Anna convocata nel pinetto per assistere a un altro filmato che mostra i due di sera, in riva al mare, sgraiati, uno tra le braccia dell'altro. Alfred si copre con un braccio, Sofia quando si salutano gli dice che è un po' al delusa perché non gli è partita la brocca, ovvero non si è lasciato andare. E Anna si chiede, ma questa l'ha capito che è fidanzato? Le ha detto, sei bellissima. Anna. Arriva un altro video, con Alfred e Sofia in camera, e il ragazzo che dice che non ha dormito pensando a lei. Anna non regge e, di nuovo, blocca il video, non voglio più vedere niente, che schifo. Gli ho dato tutto, quello che non avevo l'ho inventato per darglielo, dice con la voce rotta. Ma la tortura per lei non è ancora finita. C'è un'esterna con Alfred e Sofia al mare, che culmina con il momento che Anna aspettava, il fatidico bacio tra i due. A questo punto il fidanzato tira le somme, e il giusto chiedere il falò, sono venuto qui per capire delle cose e mi sembra di averle capite abbastanza. Le dirò la verità, quello che non ho fatto fuori, non posso mentire a me stesso. Mi stavo dicendo le bugie da solo, ho tanta gratitudine nei suoi confronti, ma per il bene di tutti e due è meglio così. Ma mentre guarda il video dell'esterna nel pinetto, anche Anna, ancora prima di assistere al bacio, chiede ripetutamente, il falò, il falò subito. Chiedo il falò. Quando poi scatta il bacio, la ragazza balza in piedi, mano al viso, ed esce dal pinetto continuando a chiedere, urlando, il confronto immediato. E lo dice promettendo un macello. A questo punto arriva Filippo Bisciglia che le annuncia che Alfred ha chiesto il falò e lei sbotta, subito, andiamo, ma la tv ha le sue esigenze, purtroppo abbiamo dei tempi tecnici, stai tranquilla, ci vediamo stasera, spiega Bisciglia. E lei continua a sfogarsi, mamma mia che schifezza, io non sono la buona che ha conosciuto, se tu mi manchi di rispetto così non hai idea di quello che ti combino. E ancora, stasera c'è il delirio al maracanà. Una persona quando è tanto buona è anche tanto cattiva, dice al tentatore anto che cerca di consolarla. Naturalmente, il falò lo vedremo la prossima settimana.